I caschi bianchi angresi guidati dal capitano Rosario Cascone hanno effettuato un'operazione ad ampio raggio sull'intero territorio locale con ottimi risultati. Controlli per quattro attività tra bar e ristorazioni, alle quali sono state elevate due sanzioni per esercizio delle attività nei locali diversi da quelli autorizzati, con sequestro penale delle strutture utilizzate, alle quali sono state anche poste sigilli perché sprovvissi dei requisiti igienico-sanitari. Controllo intensificato anche per le attività di barbieri e di parrucchieri. Sono state controllate otto esercizi, tre le sanzioni combinate, di cui una per attività svolta abusivamente e due sanzioni per apertura dell'esercizio nella giornata domenicale. Intensa anche l'attività di pattugliamento e di controllo in abiti borghesi per verificare il rispetto dell'ordinanza che fissa gli orari per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. Ben due le multe elevate dai caschi bianchi ai trasgressori. Nell'ampio raggio di controllo sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie elevate per un totale di circa 3.000 euro. Denunciate anche due persone nell'ambito della cosiddetta operazione mercato pulito. Durante la normale attività di controllo presso l'area mercatale nel rione Alfano, finalizzata alla repressione del fenomeno della vendita di merce contraffatta, si è proceduta contro i gnoti per abbandono della stessa merce da parte dei responsabili. L'operazione ha portato al sequestro di circa 50 borse, delle più famose griff, da Louis Vuitton a Prada, e diverse paia di scarpe, marchiate Hogan, per un valore totale della merce pari a 2.000 euro. L'azione dei caschi bianchi prosegue in modo più fittizio in occasione delle prossime festività.